Questo è il secondo incontro di questo breve ciclo di seminari che abbiamo pensato di fare sulla figura della madre e del padre. Abbiamo voluto con questi due seminari provare a fare una sperimentazione un po' nuova, insomma, che ci è farsi interessante e cioè provare ad affrontare le figure genitoriali, la figura del padre e la figura della madre la scorsa volta abbiamo parlato della figura della madre, invitando in contemporanea a commentare su questo tema una professoressa, una letterata e una, anzi oggi ne abbiamo addirittura due psicologhe. Allora nella dispensa c'è una piccola parte introduttiva sull'autore, un italiano svevo. Adesso parliamo del primo romanzo, Una vita che è condotto in terza persona. Il protagonista è un tale Alfonso Linti. Attraverso gli spaccati avrezzando dal conto. Si vede che la vita di questo Alfonso è stata condizionata da padre, nel bene e in carità. Il padre era un medico che non era riuscito però a fare una ricca clientela, era vissuto poi sempre in un paese, ma aveva sperato per il figlio una vita migliore. Aveva fatto studiare il figlio e quando aveva visto dei buoni risultati sperava che quello della vita avrebbe avuto ciò che non aveva avuto lui, che di solito era l'aspettativa dei genitori. Adesso arriviamo all'omanzo più importante, la coscienza di Zeno. Ecco, questo romanzo non è più condotto in terza persona, ma in chiave autobiografico. Quello che scrive è appunto Zeno. Zeno dice che fine ragazzino voleva fumare e anche qui perché? Perché il modello era il padre che si aggirava per casa con sigaro e virginia, lo lasciava fumato a metà e in quel modo si faceva vedere come persone importanti. Il padre ha avuto dal medico la raccomandazione di stare a letto, però come è tipico di queste malattie cerebrali e inquieto. Un po' si alza, un po' sta in poltrona, un po' cammina con una deambulazione faticosissima. A un certo punto il figlio e l'infermiere, siccome è serzato, vogliono farlo mettere a letto. Il padre alza un braccio e fa cadere, un movimento probabilmente in volontà, pesantemente la mano sulla guancia del figlio che recepisce questo come uno schiavo, come un'estrema punizione del padre nei suoi confronti perché lui non è quello che il padre si sarebbe aspettato. Diciamo che le aspettative possono anche compromettere magari un po' la vita, lo sviluppo del bimbo perché comunque c'è una tendenza ad investire ovviamente molti dei desideri sui bambini però questo rischia di mettere anche una serie di teca sul destino dei loro figli perché se queste aspettative sono troppo alte, il figlio poi faticherà a esprimere ciò che effettivamente sente, anzi soffocherà magari quelle che sono le sue risorse, le sue potenzialità per andare ad abbracciare capacità che in realtà non gli appartengono, quindi facendo un doppio sforzo perché da una parte deve dimostrare di valere con delle risorse che però non sente di avere, dall'altra deve soffocare quelle che sono le sue aspirazioni, le sue risorse. Vi faccio un breve cenno a quello che viene definito in psicologia a falso seno, che spesso nasce da situazioni di questo tipo, è come se ti venisse cucito addosso un vestito che non è della tua misura, che fai fatica di indossarlo, ma sei costretto a indossarlo perché secondo me i nostri temi di perdere l'amore e l'accettazione dei tuoi genitori. Il bambino ha come bisogno prioritario ovviamente quello di essere accettato e amato, ma per non perdere questo amore e l'accettazione dei genitori potrà trasformare se stesso, medicherà e accuterà e forcerà delle evoluzioni, dei sentimenti, del tentativo di essere come gli altri desideri. Io volevo concludere raccontandovi una storia di un ragazzino che io ho incontrato al mio contello d'ascosto. Ettore è arrivato da me perché mostra un grosso disagio. A scuola i professori sono molto preoccupati per lui perché non sarà inferno, è agitato, non ha amici. Quando qualche tempo dopo incontro la mamma di Ettore mi dice che il suo figlio le ha raccontato un pochino che ha detto da me che cosa ci siamo detti. Mi avete stato molto colpito perché lei mi ha chiesto come mai l'abbiamo chiamato Ettore, no? E io ho detto ma gliel'avete poi spiegato? lei gliel'ha spiegato, no? Perché lei mi ha detto no, non abbiamo molto tempo. E allora mi dice ma me lo racconti come mai l'avete chiamato Ettore? E lei mi dice ma in realtà perché era il nome di uno zio che a me era simpatico, uno zio un po' particolare che a me era simpatico, ma soprattutto mentre io aspettavo Ettore lavoravo in una scuola e seguivo un bambino, seguivo un bambino che si chiamava Ettore, che era bellissimo, simpaticissimo, però era simpatico a me perché in realtà non riusciva a creare relazioni con i compagni, era veramente un ragazzo bambino che proprio nessuno riusciva a contenerlo, però a me piaceva tantissimo. In realtà in quel momento la mamma non si accorgeva neanche della simpitudine, no? Che c'era tra quello che lei aveva visto in questo bambino, che è quello che tutti vedevano in questo ragazzino che è suo figlio. E credo che sia significativo, no, questo, proprio sulle aspettative, su quello che noi trasmettiamo in qualche modo ai nostri figli senza forse neanche rendercele tanto conto. Volevo concludere con una poesia che si intitola Invito all'incontro, che è stato scritto da Jacopo Molino, che è un psicologo, psicodramechista che ha proprio lavorato sui uomini, no? E che dice così, un incontro a due, occhi negli occhi, volto nel conto e quando tu sarai vicino io coglierò i tuoi occhi e li metterò al posto dei miei e tu coglierai i miei occhi e li metterai al posto dei tuoi. Allora io ti guarderò con i tuoi occhi e tu mi guarderai con i miei.